Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, sacrestia antica, la chiesetta di Santa Maria delle Grazie, questo è un luogo in cui Padre Pio incontrava tante persone e scendeva, perché scenderebbe, perché c'è una rampa di scale dalla clausura. Questa porta oggi che è aperta perché ci vuole far vedere per la prima volta un luogo dove Padre Pio sostava, prima di scendere, ogni giorno. Ce lo racconta Padre Eusebio Notte nelle sue memorie. Ecco, c'è un quadro dell'Immacolata dove Padre Pio sostava per recitare l'Ave Maria, per affidare a Maria tutte le sue preghiere. E Padre Eusebio Notte nelle sue memorie ci racconta quello che accadeva ogni giorno quando lui lo accompagnava. Scendeva da quest'altra rampa di scale che arrivava dalla sua cella e poi, scrive Padre Eusebio, appoggiava la destra su questo poggiamano e con la sinistra teneva sempre stretta la corona del rosario. E arrivato proprio qui, con Padre Eusebio sotto braccio, sostava e pregava. Scrive Padre Eusebio che sostava circa 3-4 minuti, recitava l'Ave Maria ma anche altre preghiere alla Madonna, tanto che lo stesso Padre Eusebio non riusciva a comprendere questa sorta di giagulatoria che faceva lo stesso Padre Pio dinanzi a questo quadro. E scrive Padre Eusebio, sembrava che questo quadro ogni mattina stava ad aspettarlo. e qui lui aveva una sorta di incontro prima di cominciare il suo, ecco potremmo dire proprio così, tra virgolette, il suo lavoro. Una sorta di mandato che Maria gli affidava. Poi un ultimo sguardo alla Madonna, un mezzo gemito, un sospiro d'amore e giù, subito, verso il lavoro, scrive Padre Eusebio. E proprio così termina scrivendo che sono sicuro che l'Immacolata lo aiutava a non sporcarsi mentre puliva e purificava gli altri ridonando così a tutti la grazia di Dio. Grazie per la visione!